Allora Gianpaolo Agricola di Est del Basket del Serapo, parliamo di questa settimana per la Serapo che viene dalla vittoria in trasferta appunto importante e poi si prepara il big match sabato prossimo come è andata la partita di Sabrosco? La partita è stata un po' più complicata del previsto, visto che per via del gruppo tempo siamo arrivati dieci minuti prima della partita, quindi i ragazzi poco concentrati non hanno approcciato bene la gara poi si sono messe le espulsioni di Luca Valente e Porfido a complicare le cose però sono stati bravi ragazzi con un ottimo finale di terzo quarto e altrettanto quarto quarto a portarsi a casa una vittoria e due punti molto importanti Un cammino importante per queste prime giornate per il Serapo? Sì, questa vittoria ci permette di vedere la classifica in maniera positiva al momento siamo quarti a due punti dalle prime in classifica e domenica affrontiamo proprio una di queste tre, le Stelle Marine e Ostia che a quanto pare sono la squadra migliore di questo raggruppamento Noi speriamo e proveremo a mettere in difficoltà anche loro come abbiamo messo Vignavia e Fosinone e speriamo praticamente che ci vada bene La situazione della squadra al roster com'è? Beh, i ragazzi stanno tutti bene, il morale è alto, sono calchi l'affiatamento sta salendo, quindi tutto sommato positivo Speriamo che domenica possano offrire una prestazione sopra le righe perché solo una prestazione sopra le righe ci può permettere di portare a casa i due punti Appuntamento quindi per domenica ore 18 al Palamarina Grazie, bocca l'uva